Noi abbiamo tutte le capacità, tutte le risorse umane, professionali, di capacità, intellettuali, abbiamo tutto da poter mettere in atto e sfruttare, quindi liberiamoci di questo, di questo Stato che ci stiamo portando avanti da tanto tempo, da tanti anni, mettiamoci insieme e studiamo come fare per garantire il meglio alle nuove generazioni. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Ci scusiamo per l'attesa, probabilmente è caduta la linea perché il telespettatore era stanco di aspettare, potete chiamarcelo 080 501 9998 per intervenire in diretta e parlare con il Presidente della provincia di Bari, Francesco Schitulli. Andiamo avanti perché con l'insediamento del nuovo Consiglio regionale ci dovrebbe essere tra poche ore la programmazione ufficiale degli eletti, l'assessore Belluomo sarà costretto a lasciare lo scranno alla provincia di Bari. Possiamo chiederle se c'è area di rimpasto in giunta? Questa domanda mi è stata rivolta questa mattina anche in Consiglio provinciale. Io ho detto loro che intanto conosco la sensibilità e l'onestà comportamentale dell'assessore Belluomo per cui mi ha già rimesso il mandato nel momento in cui diventa incompatibile con la carica di consigliere regionale. E quindi in teoria si renderebbe vuoto questo scranno, questo assessorato. Però parlare di rimpasto mi sembra inopportuno. Qua dobbiamo parlare di affrontare i problemi della gente, non i problemi assessorili. Per cui la delega me la tratterò io, così ci sarà anche un impegno minore a livello di spesa. Voglio colloquiare con la regione, voglio colloquiare con il comune, vogliamo vedere gli ambiti di sviluppo, gli ambiti di raccordo che ci saranno. E quella delega poi sarà data a qualche altra persona che, come ha fatto Davide Belluomo, la saprà onorare. Ma per il momento parlare subito di mettere il cappello sulle sedie, sulle poltrone, non mi sembra tanto educativo anche nei confronti dei cittadini. Andiamo avanti per parlare della casa dell'Orchestra Sinfonica della provincia di Vali. Stiamo parlando ovviamente dell'auditorio Unino Rota. La settimana scorsa c'è stato l'ennesimo sopralluogo, il secondo, credo, sopralluogo da parte dell'assessore alla cultura della provincia di Bari, Nuccio Altieri, così come era stato previsto dall'inizio dei lavori, che la provincia avrebbe in qualche modo monitorato l'andamento dei lavori. Di fatto, i lavori procedono secondo cronoprogramma, ma c'è una voce che manca l'appello. Sì, i lavori stanno andando avanti e stiamo rispettando in pieno quello che è appunto il cronoprogramma, per cui non ci sono problemi da parte nostra. Manca l'erogazione da parte, quindi i contributi e quindi il quantum da parte della regione. Ma questo sono convinto che non accadrà, ma se la regione per una qualsivoglia motivazione dovesse tardare al pagamento della propria competenza di quanto le compete, i lavori a settembre si vanno a bloccare e con quanto ne conseguono, perché praticamente non sarà più possibile poi aprire l'auditorium, così come era stato deliberato per fine anno e diventerebbe, ma sono convinto di no, altrimenti anche questo diventerebbe una telenovela come come l'oncologico, oppure come la rimessa di Piazza Cesare Battisti o come tante altre telenovela alle quali attendiamo ancora risconti e risposte. Speriamo di no, ma sicuramente la regione presto verserà i 2 milioni e 800 mila euro, una cifra tra l'altro di non poco conto, per la ristrutturazione dell'auditorium di Neurota. Ma neppure di alto, ma neppure tanto forte come data dei soffi. Come finanziamento, certo, perché ricordiamo che ci sono anche dei finanziamenti da parte della provincia, insomma non costa soltanto 2 milioni e 800 mila euro la ristrutturazione dell'auditorium di Neurota. Parliamo di un altro argomento, lì ha parlato di sinergia politico-amministrativa, devo dire che c'è stato un caso in cui avete risposto un po' tutti, parlamentari pugliesi, ma anche lei come Presidente della provincia di Bari, un appello lanciato dal Sindaco Emiliano, un appello rigorosamente bipartisan, che a difesa della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, alla luce del Decreto Bondi che riorganizzerà tutto il sistema delle fondazioni, la Fondazione Petruzzelli rischia con l'applicazione del Decreto Bondi di non funzionare più, di non poter più restare in vita, perché è una fondazione molto giovane, si è costituita da poco e perché non può essere messa al pari con tutte le altre fondazioni. Di qui l'appello lanciato dal Sindaco Emiliano, al quale tutti un po' hanno risposto, lei è stato al fianco del Sindaco Emiliano durante la conferenza stampa, che è poi intervenuta successivamente all'incontro con i parlamentari pugliesi, a quale decisione siete arrivati? Ma anche qui c'è stato un consenso trasversale, direi quindi a politico, da parte di tutti i parlamentari, sia del centro-destra che del centro-sinistra, che si sono fatti carichi di portare all'attenzione del governo questo problema. Io credo che il Teatro Petruzzelli, la Fondazione Petruzzelli vada salvaguardata e vada portata avanti questa iniziativa. Parlo da cittadino, ma parlo anche con la responsabilità della provincia, anche se la provincia è stata completamente ignorata da parte del Presidente della fondazione, di questa fondazione, del Petruzzelli e quindi dell'attuale Sindaco di Bari. Però non toglie che, così come ho sempre detto e sempre sostenuto, metto da parte questa situazione, tra virgolette, di insensibilità o di arroganza, come volete potete chiamarla, politica, ma l'interesse è quello di portare avanti la fondazione Petruzzelli, per cui mi sono immediatamente schierato a tanto. Non credo però che basterebbe un emendamento, secondo me dovremmo spingere, e questo è stato anche il mio intervento, a poter ottenere una deroga per il Petruzzelli. Dico questo perché anche le altre fondazioni sono in uno stato di sofferenza economico-finanziaria, per cui come ci sono i parlamentari in Puglia, ci sono i parlamentari in Campania, nel Veneto, in Lombardia e quant'altro. E allora se noi presentassimo, i nostri parlamentari presentassero un emendamento, nulla toglie ai parlamentari del Piemonte di presentare anche loro un altro emendamento, per quanto riguarda il loro teatro. Allora la necessità invece è di chiedere una deroga per il Petruzzelli, proprio perché Petruzzelli è in fase di avvio, dispone di una potenzialità molto forte, e nello stesso tempo di presentarsi, ecco la mia presenza come provincia, di presentarsi anche di fronte al governo, uniti su questa battaglia. Poi le cose di casa nostra ce le lasciamo da parte, cioè il fatto che a un anno dall'insediamento della nuova amministrazione provinciale la fondazione non motu proprio, non riconosca la presenza, se non in queste circostanze di aiuto, di sottotitoli pronti a darlo, al di fuori di questo devo registrare che non vi è quella unità di intenti della quale faccio sempre riferimento, ma che evidentemente le logiche ideologiche o partitiche o politiche prevalgono su tutto.